il risultato si poteva si poteva anche vincere però il calcio è questo e bisogna per vincere bisogna fare un gol più degli altri non l'abbiamo fatto beh sicuramente non abbiamo non abbiamo fatto i gol che dovevamo fare ne abbiamo sbagliati tanti e poi alla fine forse con un pizzico di attenzione in più non prendevamo gol se direi che la partita per me vera è quella del primo tempo no il primo tempo dove le due squadre si sono si sono affrontate un pochino a viso aperto e credo che abbiamo avuto parecchie occasioni per andare anche a raddoppiare e non l'abbiamo fatto il secondo tempo l'olico la propate si è buttata un po in avanti ciascosa scoperta perciò sul piano del gioco abbiamo subito cercato di verticalizzare per andare a far gol e abbiamo avuto parecchie occasioni e non le abbiamo sfruttate però la partita vera dove le due squadre giocavano è stata il primo tempo e lì sono sono sicuramente soddisfatto no 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 assolutamente ma il calcio dobbiamo sapere che che questo no le cose belle delle delle di giocare a calcio è che certe volte magari non fai un tiro in porta al novantesimo vinci un a zero però sono più contento delle comunque della della prestazione dell'approccio alla squadra e anche nelle ultime sei amiche dove abbiamo preso solo due gol oggi ne abbiamo presi due tutti da una squadra perciò questo questo mi dispiace un po perché dietro non abbiamo quasi mai subito occasioni da gol neanche nelle coppa italia amichevoli oggi sul 2 a 0 probabilmente abbiamo preso un gol su corner che si poteva evitare e poi alla fine ci stanno tutti buttano su palla è un rimpallo andato bene abbiamo preso gol ma però la prestazione della squadra sono sono contento dell'atteggiamento della della voglia di cercare di costruire per andare a far gol e questo è la mentalità che serve dopo i due punti in più mi facevano comodo però adesso guardiamo guardiamo alla prestazione e ci abbiamo tante partite davanti perciò vediamo ma sapevamo che era un'ottima squadra no c'ha delle individualità importanti giocatori che possono fare la differenza da soli e logico che sono tanti credo che sono tanti nuovi e probabilmente più va avanti il tempo più diventeranno squadra è logico che adesso magari spiccano a livello individuale dei giocatori che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento più troverà giocheranno assieme più riusciranno a diventare squadra allora dopo diventerà molto molto pericolosa si la stiamo stiamo continuando su quella strada lì e l'anno scorso nel girone di ritorno eravamo ultimi il giorno è andata con 14 punti girone di ritorno comunque come punti siamo arrivati quinti perciò avevamo già una discreta squadra abbiamo inserito credo due o tre buoni giocatori e adesso bisogna bisogna cercare di far bene non è facile perché un campionato comunque difficile con questa regola di tanti giovani diventa sempre un po più complicato però credo che ce la giocheremo con tutti sì abbiamo preparato la partita leggendo la fase difensiva della propria e sapevamo i punti forti sapevamo i punti deboli abbiamo cercato di lavorare su quello che abbiamo preparato in settimana sapevamo di trovare un avversario comunque preparato e diciamo che l'abbiamo interpretata nel modo nel modo giusto perché l'approccio alla partita è stato corretto il risultato poi a frutto di 90 minuti comunque le qualità della propria non non l'abbiamo scoperta di certo in campo come dicevo prima l'avevamo avevamo previsti quindi ci sta anche di scoprire gol abbiamo preso il primo gol su pallina attiva forse potevano stare un po più attenti sulla marcatura secondo gol al novantesimo è stato bravo di sabato e tutto sommato il risultato che ci fa rimanere male perché pensavamo di portare a casa i tre punti e prendere il pareggio al novantesimo è sempre dura da digerire però è un avversario comunque importante quindi portiamo a casa ciò che di positivo abbiamo fatto a mio parere ci è mancata forse veramente la stoccata finale perché le occasioni le abbiamo create la costruzione di gioco è stata a mio parere corretta siamo arrivati da ci sono arrivati anche bene in maniera pulita io ho sbagliato un gol una volta capitato a germani di testo una volta modeo diciamo che abbiamo avuto varie possibilità di chiuderla e non l'abbiamo fatto e come come spesso capita quando non chiudi la partita ci sta che poi prendi il pareggio l'abbiamo confermato perché noi per come abbiamo lavorato abbiamo delle convinzioni però un conto è per portare in allenamento e portare in amichevoli nel precampionato che comunque sempre molto lungo e difficile un conto è presentarli poi in campionato era la prima partita quindi diciamo che ci sono magari le difficoltà che durante il corso dell'anno vai a limare però penso che abbiamo risposto presente nel modo nel modo giusto eravamo sopra 2 a 0 ripeto poi il risultato ci sta comunque giovanco contro una squadra forte quindi ci sta anche pareggio la sensazione che aveva avuto la propatria è quella che mi aspettavo prima del fischio d'inizio cioè di una squadra organizzata solida e ben messa in campo perché comunque al di là delle situazioni che noi siamo riusciti a creare abbiamo trovato difficoltà soprattutto nella manovra dietro perché erano ben chiusi dietro siamo stati bravi noi a creare situazioni perché non ci ha regalato nulla e questo è un po quello che fa della propatria una squadra organizzata